Che cibo dovrei preparare stasera? Che cos'è? Comunque, mentre cercavo di capire che cibo fosse quello, ho dimenticato sul fuoco il cibo vero che stavo facendo, che adesso è diventato la pappa per il cane. Eccola qui, questa era una pastina che doveva diventare una pastina appunto con la crema di zucca e adesso è diventata una bella pastina flambè per il cane Kiro! Ci aggiungiamo anche una bustina di carne, se no non se la mangia neanche lui. Spero che questo video non esca tra i consigliati insieme a quelli delle ricette, perché se no la gente vomita. Oh, guardate che bel piattino gourmet! E voilà, neanche da Carlo Cracco, per fortuna. Servizio in camera. Vediamo? Dai, dai, almeno il cane se la mangia! No! No!